Hanno lasciato il centro che li ospita, Galatino a Mertino, per raggiungere a piedi il commissariato di polizia e chiedere di essere trasferiti in un'altra struttura. Una dozzina di immigrati sono così rimasti per ore sul marciapiede davanti al commissariato per chiedere di illustrare le proprie lamentele e le proprie esigenze. Il problema pare piuttosto complicato. In pratica un gruppo di giovani che erano giunti nei mesi scorsi a Galati, un centro riservato ai minorenni, nel frattempo è diventato maggiorenne e non ha più diritto di rimanere in quella struttura. Le strade quindi sarebbero due, o lasciare il centro e cercare soluzioni personali oppure essere trasferito in un centro di seconda accoglienza. Andando via, l'immigrato perderebbe i diritti dell'accoglienza come vitto e alloggio e di 2,50 euro al giorno che sono riconosciuti. Il gruppo di immigrati neomaggiorenni, che non hanno mai visto di buon occhio la permanenza a Galatino a Mertino, soprattutto in un terreno isolato e lontano dal centro urbano, sollecitano quindi l'invio in un altro centro per maggiorenni, in altri comuni che deve essere disposto dalla prefettura. Da parte nostra, dicono però i gestori della struttura, nonostante non abbiano diritto alla permanenza da noi, continuiamo a fornire vitto ed alloggio che non ci sarà neppure rimborsato. Più di questo non possiamo fare. La polizia, dal canto suo, con la dirigente Carmelo Alioto, ha illustrato la situazione ricordando ai giovani che se non torneranno a Galati ad aspettare le determinazioni della prefettura, perderanno il programma di protezione e dovranno arrangiarsi. Insomma, un cortocircuito del sistema di accoglienza che bisognerà al più presto risolvere.